... Mamma, ce l'ho fatta, sai? Sono campione d'Europa! Queste le parole che il 22enne Pugile di Rovigo, e quello dalle strisce bianche alle mutandine, pronuncerà alla radio subito dopo la clamorosa vittoria riportata a Manchester su Peter Kane, in gioventù campione mondiale dei Pesigallo e a 30 anni campione europeo della categoria. Con calma aggressività e controllato ardore, magnifico soprattutto nell'uso del sinistro, ha gonfiato gli occhi al fabbro scozzese. Conquistando al pugilato italiano il titolo europeo dei Gallo, a compenso del titolo dei Leggeri, perduto tre giorni prima da Proietti a Londra. L'immediatezza con cui l'arbitro inglese solleva il braccio di Ferracin dimostra la chiarezza della sua vittoria.